Fra pochi minuti inizierà la gara, ci troviamo a Castelfrentano al campo sportivo della vittoria di via nazionale, big match della giornata, il Francavilla calcio 1927, giocherà con la maglia blu, completo blu scuro, mentre la Virtus Castelfrentano con la seconda maglia bianca con risvolti giallorossi, calzettoni gialli, direttore di gara Pio Francesco Di Tucci della sezione AIA di Lanciano, ecco l'ingresso in campo, gara del campionato provinciale in categoria giovanissimi, il girone di Chieti c'è il solteggio con la monetina c'è il solteggio con la monetina Ok, andatevi a salutare, andate la panchina Ok, bravo, bocca al lupo! Pute inne di 강ni vendita Vedremo la panchina ? ? ? ? ?